Onorevole Matera, una risoluzione sugli ostacoli alla imprenditoria femminile. Quali sono i fattori esterni che possono costituire un problema? Oggi si sente sempre di più parlare in tutta Europa della difficoltà di accostare la parola donna alla parola impresa e qui attraverso la mia relazione al Parlamento europeo abbiamo cercato di accendere i riflettori su questa tematica perché soltanto il 30% degli imprenditori è donna in tutta Europa e quindi abbiamo bisogno di misure concrete e anche istantanee e quindi il modo per poter agire in fretta e quindi per essere più concreti possibili è sicuramente toccando i fondi europei e quindi sappiamo che tra gli ostacoli principali per la difficoltà delle donne di fare impresa c'è la conciliazione tra vita lavorativa e vita privata e allora l'importanza di far conoscere alla donna quei fondi europei anche diretti per poter fare impresa per poter aprire una propria impresa personalmente. Non vogliamo che le donne europee scelgano oggi tra carriera e vita privata. Quali fondi potrebbero aiutare le donne imprenditrici ad avviare o continuare la propria carriera? Di fondi ce ne sono innumerevoli potrete trascorrere un pomeriggio intero ad elencarvi tutti i fondi. Sono sicuramente fondi che attingono al reparto sociale quindi tutto ciò che può essere d'aiuto ad una donna ma ci sono anche per esempio l'importanza sottolineato all'interno della mia relazione di aprire ad una piattaforma europea quindi la possibilità di scambio di best practice quindi conoscere le donne che hanno fatto impresa in modo i passaggi che sono riuscite comunque ad avere attivare nei piccoli step e quindi poi come sono riusciti ad aprire a fare impresa e quindi uno scambio di informazioni che si è avvicolato all'interno dei 28 paesi membri. Oltre queste due misure cosa altro chiede la Commissione europea con la risoluzione approvata? Sicuramente l'implementazione della direttiva europea sulla parità di accesso al credito e ai servizi perché uno degli ostacoli principali per le donne oggi europee nel fare impresa è sicuramente la difficoltà di accedere al credito, accedere ai finanziamenti. E' importante che venga istillato nelle ragazze europee la cultura all'imprenditoria quindi al saper fare impresa non rivolgendosi quindi sempre alla conoscenza, agli studi, alle lauree in materie umanistiche ma aprirsi anche al mondo della tecnologia, all'high tech perché no anche all'economia verde così riditizia oggi e comunque cercare di capire che ci sono delle materie a favore degli uomini che non per questo siano e debbano essere precuse alle donne. Un'ultima domanda sui finanziamenti, il piano Juncker può servire a qualcosa in questa dimensione? Assolutamente, Juncker ha parlato tanto di giovani e di donne quindi il piano Juncker si aprirà, il buon auspicio è stato quello subito appena diventato Presidente della Commissione, è stato proprio quello di rivolgersi non solo ai giovani europei e alle donne quindi il nostro auspicio sarà sicuramente che il Presidente farà e saprà fare bene il suo lavoro e quindi sono sicura che attraverso il piano Juncker noi sapremo cogliere anche altre risorse e altre informazioni che l'Unione Europea può dare e deve saper dare alle donne europee. Grazie.